Bene, quindi è arrivato il momento della nostra campagna dedicata al mondo dell'agricoltura innovativa. Andiamo quindi a Beccarino, in piccola località del comune di Poppi, in Casentino, per affrontare il tema dell'emergenza cinghiali insieme a una delegazione della Coldiretti. Troppi ormai i danni causati dagli ungulati, quindi si chiede l'intervento della regione. Ci colleghiamo quindi in diretta con Costanza Mangini. Sì, buongiorno da Beccarino. Vedete il castello di Poppi alle nostre spalle? Noi siamo in un campo di grano, o meglio, in quello che resta di un campo di grano, perché i cinghiali hanno veramente distrutto tutto. Accanto a me c'è Fabio Norcini, un agricoltore del Casentino di Coldiretti. Sono esasperati, lo vedete, insieme a noi c'è anche una delegazione, dicono basta, vogliono essere aiutati. Hanno fatto più di un appello alla regione toscana. Fabio, come sta andando in questa zona con il problema degli ungulati? La situazione è drammatica. Fino a qualche anno fa gli ungulati che si trovavano nelle parti alte della montagna, circostante a seguito di politiche agricole e politiche comunque nazionali, protezionistiche, ambientalistiche, hanno fatto sì che sia aumentato come popolazione e non c'è più questo equilibrio e quindi scendono a valle in cerca di nuovi territori per alimentare. Lei ha 30 ettari di terreno, quanti ogni anno le vengono distrutti dai cinghiali? Oltre il 50% viene distrutto e questo qui, oltre a essere distrutto, è anche mal pagato, perché poi gli indemizi sono più che insufficienti. Ecco, noi abbiamo realizzato un servizio proprio per parlare degli ungulati che la regia può mandare in onda. La Toscana è terra di ungulati oltre 200.000, cinghiali, daini, caprioli presenti nei nostri boschi, ma c'è chi parla di almeno il doppio. Questo è l'esempio di un terreno, di un nostro appezzamento dove c'è passato un branco di cinghiali che hanno distrutto tutto il raccolto. Sul piede di guerra, gli agricoltori che ogni anno vedono danneggiati ettari ed ettari di terreni seminativi, ma anche di vigneti ed oliveti, con un danno che in alcune aree raggiunge il 60-70% del raccolto. Questa è una zona che quando c'è o grano o girasole, che sono terreni prevalentemente da queste culture, tutti l'anno c'è danni enormi, distrutti. Un'emergenza sociale, dicono in coro tutte le associazioni di categoria, in aumento gli incidenti stradali anche gravi e gli incontri ravvicinati nei boschi. Un'emergenza che secondo gli agricoltori potrebbe addirittura causare la chiusura di molte imprese agricole, con la conseguente perdita di posti di lavoro. Coldiretti a marzo ha dichiarato lo stato di agitazione, chiedono interventi urgenti e tempestivi di controllo, ma le richieste, dicono, restano negli uffici territoriali della regione. Il 23 di giugno il presidente di Coldiretti Toscana, Tullio Marcelli, ha incontrato il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Ecco, con noi invece c'è Mario Rossi, il direttore di Coldiretti di Arezzo. Come è andato l'incontro con il presidente della regione toscana? L'incontro è stato positivo, come ricordavi tu, c'è questo stato di agitazione di Coldiretti ormai da marzo scorso. C'è stato l'incontro con il presidente Rossi, un incontro interessante, un incontro costruttivo, dal quale incontro noi auspichiamo che a breve si intervenga veramente, perché quello che abbiamo richiesto con forza è sì una legge adeguata, una legge ad hoc per tutto il contenimento degli ungulati, ma abbiamo anche chiesto una serie di interventi immediati, perché stiamo letteralmente mettendo in ginocchio le imprese agricole. Ecco, non solo le imprese agricole, ovviamente c'è anche il problema degli incidenti stradali. Purtroppo ormai il problema del cinghiale, ma il problema degli ungulati in generale è un problema sociale, perché abbiamo problemi con gli incidenti stradali, stiamo distruggendo i nostri raccolti, stiamo distruggendo anche vigneti, perché comunque non è solo il cinghiale il problema, c'è anche il capriolo, perché l'intervento del capriolo va a muoversi sui germogli delle viti, quindi distruggiamo non la produzione di un anno, ma distruggiamo la produzione di vari anni. Poi c'è anche il problema dei boschi, perché qui noi siamo in mezzo alle foreste casentinesi, e quindi ovviamente anche le foreste ne hanno subito un contracolpo. Assolutamente sì, se non si fa una politica di contenimento della specie cinghiale, degli ungulati in genere, noi rischiamo di giocarci e perdere anche quel grandissimo patrimonio boschivo che abbiamo. Ecco, noi l'abbiamo detto, noi l'abbiamo detto, il 23 di marzo, a marzo avete iniziato ovviamente uno stato di agitazione. Se non succede qualcosa, cosa farà Coldiretti? E chiudiamo così. Ma se non succede qualcosa, diciamo che Coldiretti sarà pronta a fare altri interventi più drastici, più forti, di sensibilizzazione totale dell'opinione pubblica sul problema ungulati che, ripeto, è diventato un problema sociale. Ecco, da Poppi restituirei a questo punto la linea allo studio, ringraziando anche la delegazione di Coldiretti che è qui con noi sotto il sole. Bene, andiamo avanti.